Ancora soddisfazioni per la Dirty Dancing School di Agropoli, dopo l'incetta di medaglie ai campionati mondiali e gli European Dance Championship che si sono svolti lo scorso anno, le Spice, atlete della Dirty Dancing School di Agropoli, capitanata dalla maestra Agnese Di Biasi, dopo tre giornate di competizione in Polonia dal 15 al 17 marzo per il campionato europeo di Latin Show e Synchro Dance, si riconfermano campionesse europee, cinque le atlete in tutto della scuola di ballo di Agnese e Antonio Di Biasi, che hanno partecipato alle gare dove erano presenti diverse nazioni provenienti da tutto il mondo. Medaglia d'oro nel gruppo adult Synchro Latin, dunque per le atlete, Dora Giuliano, Figliola Francesca, Santa Lucia Ilaria, Comunale Giusi e Romano Maria. L'emozione non ha voce, commenta sul suo profilo Facebook Agnese Di Biasi, la maestra del gruppo di ballerine che hanno conquistato il titolo. Grazie ragazze che insieme a me credete in questo magico mondo e tra mille difficoltà troviamo il tempo di allenarci, sia per l'amore reciproco tra di noi, sia per la passione che ci lega. Ci tengo a puntualizzare, continua Agnese, che siete quasi tutte mamme, mogli, insegnanti di danza sportiva. L'impegno della Dirty Dancing School non è finito con i campionati europei. Ora le ballerine sono impegnate per la prossima gara che le vedrà protagonisti a rappresentare l'Italia in Bosnia ad ottobre 2019. Grazie a tutti.